Musica Reduce dal pari rimediato in casa del Pineto, la primavera bianco scudata, ospita il Gaetano Scirea di Santa Lucia del Mela, la casertana ultima della classe a quota 11 punti. Gara d'andata terminata in parità con la rete di De Rosa in risposta allo 0-1 di Scafetta, maturata al quinto di recupero. Messina che non vuole ulteriori rimpianti, una vittoria accorcerebbe la classifica a quattro giornate. Dalla fine alla regular season, Carmelo Mancuso recupera Daniel Cuti, Spoto che parte dalla panchina mentre non sono nella partita. Ambriano e Salamone dal primo spazio a Mazzeo tra i pali, Paratore, Crisafulli, Ballariano, Difazio, Maimone, Raspalus, Scafetta, Romano, 4-3, Cassandra. Passiamo al fine di questa sfida che si aprirà il quinto con il cross dalla sinistra spazzato male da Crisafulli che favorisce il recupero della sfera di Borrelli. Serve Esposito, immediato vantaggio campano, 0-1 al Gaetano uscirà di Santa Lucia del Mela, un quarto d'ora più tardi arriva anche il bis. Palla per la resta dalla distanza, 2-0, inizio shocking per i bianco scudati sotto di due reti. Prova a correre i vari Mister Mancuso dentro Galvagna e Flamia per Ballariano e Difazio. Quando siamo solo al venticinquesimo non cambia rinazze questa sfida. Alla mezz'ora rimessa laterale per Esposito che salta. Il non entrato Flamia mette dentro per Benincasa che calcia a botta sicura. Trovando la respinta provvidenziale di Mazzeo. Vanno così in archivio i primi 45 di gioco. Casertana avanti per due reti a zero. Dopo 20 minuti è dentro in campo e le due formazioni ancora cambi. Con Panzarella e Cutis Poto che rilevano quattro occhi. E Alessandra al 71esimo. Premio di rimporta del Messina. Punizione messa dentro da Galvagna per Romano. Che calciano inquadrando il bersaglio grosso. Due minuti più tardi palla in verticale per Cutis Poto. Che arma il destro e trova l'eurogollo di giornata. C'è ancora una partita. Alghetano scirea di Santa Lucia del Mela. Dentro anche a Dragna il luogo di Raspavolo. Sette minuti più tardi all'ottantesimo. Palla per Panzarella che ci prova con il destro. Trovando solo l'esterno della rete. Percorre un brivido lungo la schiena dell'estremo difensore. Campano nel finale espulso. Crisa Fulli reo di aver detto qualche parola di troppo. All'indirizzo della direttrice di gara. Non accade più nulla. Alghetano scirea di Santa Lucia del Mela. A passare è la casertana per due reti a uno sul Messina. Un saluto allora amici appassionati. Appuntamento come al solito. Alla prossima.